La situazione è abbastanza sotto controllo e ritengo che si continuerà in presenza per tutto l'anno scolastico. A dichiararlo è l'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini che ieri mattina è stata a Baronessi per una visita a degli istituti scolastici. La situazione è abbastanza buona, è sotto controllo. È ovvio che ci sono molte classi, ma devo dire che le province di Salerno, Avellino e Benevento sono quelle che stanno meglio. Chiaramente ci sono molte classi che sono in dad, ma per scopi precauzionali. È stato fatto un po' di confusione a livello ministeriale. Io dico sempre che per quanto riguarda la scuola l'importante è che ci siano delle informazioni e che siano poche e chiare. Il fatto che ci siano state due circolari, una del Ministero dell'Istruzione e della Salute e il giorno dopo Palazzo Chigia abbia smentito, ovviamente non fa bene alla scuola. Però devo dire che la situazione è abbastanza sotto controllo. Io ritengo che si continuerà in presenza per tutto l'anno scolastico. Poi è chiaro, la pandemia ci ha abituato a cambi repentini di rotta, però il fatto che comunque le vaccinazioni siano a buon punto ci lascia ben sperare.